Siamo con il mister Lupo, un pareggio giusto, tanta paura di perdere. Il secondo tempo, il primo tempo abbiamo fatto la partita noi, abbiamo creato tanti. Loro hanno fatto solo i dollari, però sono orgoglioso dei miei ragazzi perché hanno fatto una gran partita. E sono orgoglioso anche di questa gente. Tantissima gente da Imperia. Grazie mister. Continuiamo adesso, mi raccomando, andiamo. Grazie.